E finalmente siamo al punto forte. Guarda, questo è Sito Unisco. E che cos'è? E' un castello. No, un caravanzerraglio. Che cos'è? Un caravanzerraglio. Un caravanzerraglio. E che cos'è? E' un posto dove le carovane di mercanti si fermavano per riposarsi. Le carovane di mercanti che venivano dal deserto. Insomma. Mi fermavano per riposarsi. E quale popolazione l'ha costruita? T'ho fregato. Omaiti. No, 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 no. Omaiti. Omaiti. Bravo. Siedendosi, omaiti. Questa è la rappresentazione invece di una volta celeste dove ci sono anche i segni e lo posso dire. Sara, tu sei sagittario? No, io sono scorpione. Porca miseria, ho sbagliato. Scusa. Stavo inquadrando un sagittario. Troviamo lo scorpione allora. Eh, lo vedo. Due gemenni, il tuo segno? Quanto che sono quelli due gemenni? I due gemenni sono questi? Vediamo un po'. Uno a testa su e una a testa in giù? Sì. Può essere. Tutto. 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 Magirla che pù, 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 D'angela pazza n'iu. Tutto. Tutto. Qua si canta, qua si balla, alla nudo c'è, stai in canto, sono belli. A me questo popolo piaceva assai Sara. Questo è diventato importante, i più importanti del mondo. Caravan servaglio, come si dice? Caravan servaglio, caravan servaglio, un whisky maschio, che cos'è, un caravan servaglio, un caravan serraglio, e questo popolo come si chiamano? O mai? Va bene. Vai. Il nulla, col Dio. Grazie.